I did all alright I had no need to fight Tonight's night Buongiorno ragazzi, che ho scoperto? Ben tornati al mio canale, bentornati su Black Ops 4 Siamo qui, ragazzi, dopo Poche ore, insomma La mia live su Twitch che è andata da Dio E soprattutto dopo il video di ieri Che sinceramente mi aspettavo un pelino di più Ragazzi, perché comunque fondamentalmente Ho giocato tanto a Black Ops 4 Nelle ultime ore e Vi devo dire che è un bellissimo gioco, è bello Cioè, ragazzi, questo code è il code Secondo me perfetto, ragazzi Multigiocatore, bellissimo Non sono le stesse code, perché comunque È vero, ci sono tanti cambiamenti Però è bello, ragazzi C'è una campagna zombie pazzesca Cioè, abbiamo giocato a zombie ieri sera Io, Ron e Delu e Fabio Rovazzi E la mappa è bellissima, ragazzi Cioè, 9 Quella dell'arena dei gladiatori è bellissima, raga E poi c'è Battle Royale, cioè, ragazzi, che cosa volete di più? Cioè, ragazzi, veramente Vedo gente che si lamenta di Black Ops 4 Forse perché vi siete stancati Non potete però dire che è la solita minestra riscaldata Però intanto siete i primi a comprarvi sempre Battlefield O siete i primi a comprare sempre FIFA Cioè, ragazzi, questo È vero che il mondo del gaming in generale Ha bisogno di un cambiamento Cioè, siamo arrivati ad un punto di stallo Che è, secondo me Dove il mondo del gaming ha bisogno di qualcosa di nuovo Ok? Black Ops 4 fondamentalmente non ha nulla di nuovo Però è un FPS completo Cioè, secondo me è bellissimo, raga Cioè, proprio bello, bello Gameplay fatto bene Le armi sono equilibrate Sono fighe Infatti oggi sono qua, ragazzi Per andare a vincere Sì, in tutti contro tutti Però volevo un attimo Visto che sono a livello 21 E si aumenta molto, molto, molto lentamente Questo gioco, ragazzi Vi dico la verità Si aumenta molto lentamente Volevo fare un po' Un esempio Secondo me Di come vincere tutti contro tutti Infatti dopo andremo a vincere sicuro Perché, ragazzi C'ho una delle armi più forti del gioco Che è il GKS Ha una precisione incredibile da lontano Ha un danno, ovviamente, di 5 Perché non può essere più di 5 Perché, ragazzi È veramente fortissimo Non può essere come l'MX9 Che comunque va a compensare con la precisione Come attrezzatura Io metterei un sensore acustico Che funziona un po' come Destiny Che si vede sulla minimappa Che adesso andremo a vedere Sciacallo Perché le munizioni sono veramente misere Leggero e silenzio di tomba, ragazzi Quindi adesso io ho sbloccato il silenzio di tomba E non ce n'è più per nessuno, ragazzi Moltissimi like Moltissimi commenti Mi raccomando Summit, assolutamente, ragazzi Hanno messo le mappe di Black Ops 1 E Black Ops 2, ragazzi Che io veramente mi tiro fuori il cazzo E mi faccio un secondo otto mani Perché Summit Fighting Range Jungle Sono le mappe più belle in assoluto Veramente Sono pazzesche, ragazzi Come faccio a mutarli sti qua? Questa è la mia classe in postazione o dominio Dominio, ragazzi È ingiocabile Devono metterlo a posto, dominio Vi dico la verità Perché c'è uno spawn trap incredibile Non cambia gli spawn Impressionante, davvero Ci prendiamo il Recon E ci mettiamo la classe Ma perché c'è un amico? Ragazzi, ma Ma Perché è mio amico questo? Io ragazzi non riesco a capire perché con l'Abdulala là Sia mio amico Secondo me è un bug La prima volta che mi trovo Ma che cazzo è? Ma ragazzi, ma che cazzo è questo qua? Ma perché mi vede sempre nella mappa? Ma state zitti Ragazzi, mi sto incazzando Guarda che mi viene a cercare solo me Basta Porco di Guarda, mi aspetta Cerca solo me questo qui Terminato Ma non è che vede tutti lui qua Ragazzi, cerca solo me questo qui Guarda che adesso si gira Guarda Si gira e mi guarda Ragazzi, ma è mortale Abdur Salam Ma che cazzo è? Basta Guardalo Ma ragazzi Guarda Mi fa prefire Ma aspetta Ragazzi, io Veramente Non sono uscito a capirla Ma ha distratto un sacco sta cosa Perché lo vedevo nella minimappa lui qua? Jungle Mamma mia, ragazzi Jungle Adesso vi faccio vedere che classe che uso Auger DMR È a colpo singolo È un'arma tattica È una bestia mai vista, ragazzi Adesso vedete un po' Spero di essere in forma Sembra di essere tornati un po' su Tubele Cops 1, ragazzi Per me è pazzesca sta cosa Comunque prendo lui qua Il Nomad, ragazzi Cioè, tra il cane Che tutti contro tutti è pazzesco E la trappola mesh È incredibile Nomad, sì Bello questa cosa Molto Realistica, devo dire Sono qua, dai, girati Non vabbè, niente Sto seguendo uno che adesso Mi torna e mi spacca Aia, porco Dio Regà, ma ci sono delle volte Che veramente mi sciolgono, eh Rappola pronta Datti la vita, semo Minchia jungle, ragazzi Ma ve la ricordate, jungle Giungle Mina cazzata No, 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 no Oh, oh Basta Cristo, dov'è la porta? Ah Niente, questo qua Ma Mi deve far cazzà Sono morti Ragazzi, questo Cosa qua Scioglie Cioè, ieri ho Chiamato su sta mappa Che per me È la mia preferita Di sto gioco Assolutamente Ci metto un po' a mirare Bello Un altro qua No, la ricarica Vaffanculo Quanto non mi scappi Bella Un altro Bene Mi fa piacere Ma ragazzi Questa la devo vincere Per forza Mi super impegno Va vaffanculo Va Ho detto Che nomad È un cancer Raga Usano delle mine Mesh Guarda quel What là È già È già 11 kill Bello È forte L'auger Ragazzi No What Hai rotto il cazzo Ma Che arma C'ha Eh Quella lì Quella arma Lì Laga È un'altra arma Che voglio provare Fortissima Basta Porco Due Ma perché Però mi piacciono Ste sclerate Ragazzi Mi piacciono Mi fan tornare I miei vecchi tempi Oh nessuno Nessuno ancora Passato di là Incredibile Era un nemico Non l'avevo visto Quel what Li torna qua Raga È sempre qua Quel what Oh curati Gabbo Nemico Ok Per questo Che è tutti Contro Tutti Importante Questa Merda 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 Bello Ogan 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 Bastard Addosso Giù Vai 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 Cagnetto No Guarda Ti hai rotto Il cazzo Guarda Dove cazzo Era il tipo Là Ma c'ha Maros Vai Cagnetto Bravissimo Cane Dai Il cane No Dai La ricarica Che palle Ah se devo mettere Oh no 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 Mi è rimasta la visione Buggata Lo sento Tempeste Là dietro Oh Bastard Dai ragazzi 21 23 Cazzo Mi è messo Troppo alto Mi sa Non ci passa Dai dove siete Ok Seraph Bello Dai da dietro What Di merda Ah vedi Non ci passano Non ci passano raga Dai Perché L'ultimo Colpo Questa La Adesso la perdo Ragazzi Questa kill Un'altra volta Non mi fai Bastarda 25 29 Ha vinto Lo strozzo Devo sempre trovare Un bastardo Che È È Assurdo Ragazzi È assurdo Sto figchie Puttane Ragazzi Quest'arma È Tipo Lo scar Lo scar DMV3 Normalmente Forte Adesso Adesso la uso Rampart Dovrebbe essere Forte Forte Va beh ragazzi Io vi saluto E vi ringrazio Purtroppo Io vi ho voluto mettere Un po' La parte prima di summit Che c'era questo tizio qua Che Boh Vedevo sempre Costantemente Non so perché Mi ha aperto il culo E poi ho messo Sta mappa ragazzi E soprattutto Ragazzi Logger DMR Provatelo Perché è veramente Fortissimo ragazzi È veramente fortissimo Ora ce la vi faccio Jungle Signori Grazie a tutti per il supporto Ci vediamo domani Con un nuovissimo video Vi ricordo sempre Mi piace e commento Un salutone Bella raga Minaccia sventata Aspetta un po' Affanculo Capito Squares è incazzato Vaffanbego Va Unità K9K1 Accuccia Ruino ucciso Mi piace What La tua tattica Ruina terra Fu avvio Stile In sorvolo Fanculo Bastardo Che revo Adesso sto anche io A campare Come fai tu Alstorm Beh beh sì L'altro ero io Perfetto 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 UAV nemico In volo Ciao What Stare whether Che revo I Che ne ünden Verifica No Che ne Che Che Che